La notte del 15 novembre scorso a Lecce, nell'ambito della campagna nazionale rivolta al contrasto del fenomeno della guida in stato di ebrezza o di alterazione dopo aver assunto sostanze stupefacenti, la Polizia Stradale ha intensificato i controlli con l'impiego di un considerevole numero di pattuglie. I controlli sono stati effettuati da personale della specialità della Polizia Stradale di Lecce, insieme a personale sanitario della Polizia e una pattuglia della squadra volanti della Questura. I test sono stati eseguiti con precursori dei chilometri su 108 conducenti. Quelli positivi sono stati 10, per i quali si è proceduto quindi al ritiro della patente. In un caso gli agenti hanno riscontrato un tasso alcolemico ben 5 volte superiore al limite consentito. Pertanto, oltre al ritiro della patente di guida, si è proceduto anche al sequestro del mezzo. Degli altri conducenti risultati positivi all'etilometro, 4 sono stati neopatentati di età compresa tra i 18 e i 21 anni e un minorenne di 17 anni che era alla guida di un motoveicolo. Tre dei 10 conducenti risultati positivi all'etilometro sono risultati positivi anche i test sull'uso di stupefacenti, quali cocaina, anfetamina e marijuana. E ora, in caso di conferma della positività attraverso un'analisi di verifica di laboratorio, verranno denunciati per guida sotto l'influenza di droga. Infine, nel corso del servizio, gli agenti della Stradale hanno proceduto anche alla sospensione della circolazione di due autoveicoli per mancata revisione, elevando numerose altre multe per violazioni al codice della strada.